Bentornati all'appuntamento di danza. La danza di questa settimana si chiama la danza della leggerezza e per questo motivo abbiamo bisogno di un oggetto molto delicato, molto leggero, come una piuma. Per prima cosa sperimentiamo la leggerezza della piuma. La piuma danza sulla nostra mano. E poi danza sull'altra mano. La piuma danza. La mano e la piuma danzano insieme. La piuma danza sul nostro viso. La piuma danza. Facciamo poi danzare la piuma nello spazio vuoto, anche a noi, con dei movimenti leggeri. La piuma danza. La piuma danza. E infine facciamo danzare e volare la piuma soffiando. La piuma danza. Aspettiamo, se volete, le foto e i video della vostra danza della leggerezza. La danza della piuma. E come sempre, un abbraccio. Grazie.